Alleluia, 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 alleluia Grazie E adesso vi presento gli altri Per la prima volta sulle scene Menico e Gino Lipporis Il resto è Imenesiato E via, via Genova E ancora una volta per la prima volta Sulla scena Paschalone Cioè Vito Piscione Celeste, Rosa Pernagliolo Andrea, Flavio Corvini Filetta, Antonia Quero Matilde, Maria Rosa Santoro Bianca, Maria Rosario Di Palma Vittorio, Roberto De Angelis Roberto, Gennaro Esposito Modestino, Michele Cristoforo Rosa, Elvira Pirlo Don Sandro, Antonio Taglio Pirlo Poi abbiamo una costumista Subbietnico, Marta D'Alezzo E la subbietnice Dina Barba Busso Quindi è quello che non può uscire A tre volte E poi ringraziamo anche il nostro forico Domenico Che è sempre bravissimo come al solito E ringraziamo soprattutto voi di averci applaudito Grazie Ringraziamo la regista Prima Rosetta Che è tanto colorato nel concerto Grazie, grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti